Quarta corsa. Quarta corsa, confronto ancora per cavalli di quattro anni, sono in nove al via dopo il ritiro di Baccao di Casei numero 5. Lo schieramento uno Batman Matley, due British Matley, tre Black in Black, quattro Black Fire Horse, sei BFC Francis, seconda linea, sette Beautiful Trio, otto Bluegrass S, nove Bowie, dieci Brios. Favori per Black in Black numero 3 Roberto Vecchione in sediolo, Brios alternativa principale, macchina intanto che comincia ad accelerare. C'è l'incertezza da parte di BFC Francis mentre si lancia in avanti, Black in Black, veloce a prendere la testa davanti a British Matley a largo e Black Fire Horse che si getta di galoppo. Terza posizione in corda per Batman Matley. Numero 4 Black Fire Horse, squalificato. 14 tra il lancio per Black in Black, molto svelta oggi. Guida con tre lunghezze di margine nei confronti di British Matley che si mantiene in seconda posizione. intanto 29 secco per i primi 400 metri di gara, va via sul passo ora Black in Black facendo andatura, rimane sempre a tre lunghezze di margine. British Matley in seconda posizione, poi Batman Matley, ancora Bluegrass AS in quarta posizione che precede Beautiful Trio. Intanto c'è la progressione dalle retrovie da parte di Brios. Numero 6 BFC Francis, squalificato. 800 metri di gara, grande andatura da parte di Black in Black, mentre Brios però si avvicina a grandi falcate, sopravanza British Matley quando siamo all'altezza del chilometro e cerca di scendere in seconda posizione alla corda. 1.13 e mezzo per i mille metri iniziali, sbaglia intanto British Matley. Numero 2 British Matley, squalificato. Davanti sempre Black in Black, tra le lunghezze abbondanti c'è Brios, parziale in 14.4, gli altri nettamente più discosti, cappeggiati da Batman Matley. Metà dell'ultima curva con Black in Black lanciata in avanti. distanza ulteriormente Brios e in arrivo continua nella sua azione e va a vincere nettamente in testo a fin dal via. Black in Black, Roberto Vecchione per il secondo posto. Brios tiene a bada tutti i tentativi di Batman Matley, mentre al quarto finisce Bowie. 1.13 netto il raguaglio per Black in Black con un 58 e mezzo di chiusa. raddoppio di Roberto Vecchione per conto di Olga Reret, successo davvero nitido questo di Black in Black e non vede mai gli avversari. Si impone per distacco con grande superiorità. Finisce ancora secondo Brios davanti a Batman Matley. Finisce ancora secondo Brios. Finisce ancora secondo Brios. Finisce ancora secondo Brios. Finisce ancora secondo Brios. Grazie.